Si sono tenuti sabato e domenica i test esercitativi a cura di numerose associazioni del territorio regionale impegnate in attività di protezione civile. I test hanno visto l'allestimento di un campo base completo e simulazioni operative di emergenze di protezione civile, in particolare per eventi alluvionali. Si alterna dalla informazione alla formazione, ad esercitazioni pratiche vere e proprie all'interno del sele per quanto riguarda il rischio idrogeologico e il rischio legato ai fenomeni alluvionali, ma anche sulle colline del comune di Eboli-Battipaglia per quanto riguarda un'emergenza legata a un disperso. Tutto questo per essere operativi e difficili e testare eventuali errori che possono succedere. È importante anche fare esercitazioni integrate tra gruppi e organizzazioni di volontariato di province diverse, perché tutte compongono la colonna mobile regionale e tutte vengono attivate quando ci sono delle emergenze di protezione civile. Quindi è importante formarsi e esercitarsi anche ad allestire un campo di accoglienza o esercitarsi sulle attività e sulle modalità di intervento, e quindi formare e esercitare i volontari. Ed è importante la presenza delle istituzioni, è importante che questo si faccia insieme e congiuntamente con i comuni e con la regione, perché, ripeto, tutti insieme componiamo la colonna mobile regionale e quindi in caso di emergenza e di criticità si interviene tutti insieme. L'esercitazione riguarda il rischio idrogeologico, quindi la fanno a Focesele, ed è importante questo, farla proprio sui luoghi che rappresentano, che si avvicinano quanto più possibile a quelli che sono gli scenari a cui spesso ci si trova di fronte. E il rischio idrogeologico rappresenta oggi una delle criticità più ricorrenti per noi in Campania, ma anche in tutta Italia. Usciamo da un periodo di oltre un mese e mezzo di continui maltempo e continui fenomeni che hanno portato purtroppo a scenari di rischio notevoli e a tragedie a cui abbiamo assistito anche nelle settimane precedenti. Quindi continuare a esercitarsi e a testare il modello di intervento della macchina di protezione civile, istituzionale e del volontariato diventa fondamentale.